Sai dove si trova il famoso campagnile sommerso? Ci troviamo in Italia, in alta Val Venosta, e qui un tempo sorgeva l'antico borgo di Curon, che negli anni 50 fu abbandonato e inghiottito dalle acque del lago. Ma il momento migliore per vederlo è l'inverno, quando il lago ghiaccia ed è possibile camminare fin sotto la torre. Salve il video per il tuo prossimo weekend e seguici per altri consigli!